La sanità resta sempre nell'occhio del ciclone. I problemi e i disservizi sono ormai all'ordine del giorno e ne sanno qualcosa gli utenti molisani, ma nel periodo estivo i disagi si amplificano, si aggravano ulteriormente. Nei giorni scorsi abbiamo segnalato i problemi che affliggono i centri trasfusionali degli ospedali di Campobasso e Termoli alle prese con carenza di personale, ma i disservizi e i disagi sono tanti. Come sottolinea Tecla Boccardo della Will, che sulla difesa della sanità sta portando avanti una vera e propria battaglia. Il pronto soccorso di Termoli in questo periodo fronteggia l'emergenza sanitaria senza triage notturno, con due soli infermieri e un ausiliario, denuncia. Nel corso di questo mese, con una esigua forza lavoro, l'ospedale ha dovuto governare in media circa 160 accessi nell'arco delle 24 ore. Assistiamo ad un copione già visto, aggiunge la sindacalista. Problemi anche nelle altre strutture sanitarie pubbliche e all'assistenza al carcere di Larino, sovraffollato, precisa la Boccardo, ma con personale sanitario sotto organico. Tutto questo dimostra, ancora una volta, che c'è una totale ingovernabilità del settore. Attacca la Boccardo, oltre al rischio sempre presente di non poter rispettare adeguatamente i livelli essenziali di assistenza, e chiude la sindacalista della Will, che rilancia con forza l'allarme rispetto ai ritardi di un'adeguata riorganizzazione del servizio sanitario regionale.